better day challenge oggi con mary e mia mary l'ho conosciuta in erasmus a madrid in realtà gli ho trovato un alloggio e oggi come tutte le better day challenge andiamo a fare un po di sport siamo sul navile ed è il percorto che collega bologna con castel maggiore partiamo con la corsetta con una delicatezza mia basta abbiamo fatto l'amo e andiamo dove si blocca questo baglio oggi ne abbiamo preso un bel po' oggi veramente abbiamo raccolto tanti 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 rifiuti e ce n'erano tanti altri meriti ringrazio tanto che vi aiutano in questa challenge fate la better day challenge e fate tutto ciò che possa fare del bene a voi stessi e all'ambiente perché ognuno di noi può fare la differenza the challenge merita 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 merita